Ciao a tutti gamers e bentornati da vostro Ninox e riprendiamo con la terra di mezzo l'ombra della guerra nell'ultimo episodio ci siamo fermati ma oddio non è che abbiamo fatto tantissimo perché abbiamo visto un attimo il prologo del nostro personaggio di Talion e di Kellen Brimbor spero tanti avranno detto giusto perché lo sbaglio sempre abbiamo visto che Shelob è praticamente un demone si può definire così comunque questo ragno donna ragno qui che ci ha rubato il nuovo anello del potere che era infuso dalla forza vitale del nostro Kellen Brimbor il nostro spettro che ci accompagna nella nostra avventura adesso siamo qui che dobbiamo cercare di salvare questa città perché se venisse in mano al Sauron il Signor Oscuro sarebbe davvero un gran casino come sempre gamers prima di iniziare vi invito a lasciarmi un bel pollice nei suoi mi raccomando per poter supportare il canale della serie se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi come sempre vi ricordo che se volete rimanere aggiornati di cliccare la campanella in alto a destra ovvero il tasto di notifica così almeno quando io carico un video aggiorno il canale vi arriverà un messaggio infine volete poi farmi qualche domanda particolare semplice vi ricordo l'hashtag AskNinoxGamer molto bene direi di iniziare questo secondo episodio insieme in questo bellissimo titolo perché a me piace davvero tantissimo e successivamente uscirà un altro gran bel titolo il 13 ovvero The Evil Within 2 per chi non lo sa per chi non mi conoscesse sono un fan degli horror praticamente mi piacciono tutti questi giochi qui ho portato anche Resident Evil Outlast che vi invito ad andare a vedere se vi piace la tipologia di gioco ecco ok adesso io mi sto prendendo un casino di parole però andiamo avanti allora tu mi invita a cliccare X e fa un mega salto super davvero figo ti è imprimuto per interrogare un verme va bene andiamo un po' vieni qui perfetto oh oh è questo qua questo capitano qui ovvero Ork il custode bene bene però ok cosa dobbiamo fare trovo le tracce e come faccio a trovare le tracce ovviamente andiamo furtivamente ovviamente andiamo furtivamente faccio anche le rime sicuramente qua ci sono gli arcieri può essere si che può essere vai 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 che la chiappiamo si ok questo è andato poi ne abbiamo un altro per di lì ma se lo attrago vieni qua no stai calmo stai calmo stai qui che lo prendiamo di soppiatto vai ok mamma mia ma guardalo tiglielo infinito proprio massacrato a lui mamma allora eccolo lì porca boia ma io ti disse che roba allora ne abbiamo un altro ancora allora dalla minimappa ok andiamo sempre in modalità così stealth vai passa oh vai perfetto adesso becchiamo l'ultimo che io non so dove cacchio sia eccolo lì vai no no tranquillo tranquillo ma ti vengo a beccare anche te ok salta su dove c'è qualcuno pagherà con i denti per questo vai perfetto allora me ne manca solo uno che era quello là che ho visto lì però mi sa che lo devo interrogare quello lì vediamo un po' sì mi sento di sì vediamo un po' credo eh che dovevo interrogarlo ok vai tiglielo ok l'altro chi è? questo qua no sì forse oh perfetto non so cosa abbia fatto però va bene quanti ce ne sono ancora scusa vai vai andiamo andiamo subito ok qui ce ne sono un paio un uruk con un anello del potere quello sì che sarebbe interessante cosa faccio? vado lì ripiglio tutti e due anzi tutti e quattro ma se le facciamo un po' di macello che figata come faccio? allora tieni premuto con l2 r2 caricare il colpo e poi rilascio per colpire ok a 1 2 no porca miseria devo colpire tutti e tre vai che figata ma vattene via dai ma l'ho fatto fuori? sì penso ok andiamo avanti si sta mettendo male per i gondorian dobbiamo aiutarli il palantire è un manufatto potente se ce ne è il padronissimo potremmo cambiare allora muovi le aree per mettere a fuoco le tracce ok e qui cos'è che ho le frecce posso prenderle che figata qua basta ho preso tutte le frecce allora qui cosa abbiamo allora dunque vai allora qui mira per bene 1 2 3 non ne ho più e vabbè perché non attacca? vai recupero la salute dobbiamo eliminare il loro capitale va bene andiamo no pia le frecce ok vai massomeno un pochino l'assassist creed sotto certi punti di vista cioè è un po' un un paragone un po' così alla cavolo però un pochino si allora qui cos'è che c'è qua? è vicino il mondo spettrale rivelerà la sua presenza che c'è? guardalo l'occhio eccolo lì eccolo qua perfetto è di livello 6 però riuscirò a farlo fuori non lo so ciao a tutti sì sì anche questo ciao ciao la pigliano perfetto perfetto allora è su in alto è per dirì però noi li facciamo fuori tutti dai pigliano mamma mia che figata sto coso qui mi mancava un pochino vai su vai su ancora allora dov'è che è? il motivo per cui siamo qui è il palantir è la città che ci ostacola da raggiungerlo uuuh un uomo solo condor dovrebbe proprio mandare dei rinforzi questa città è nostra o umano sei in ritardo quella chi è? ciao andiamo chi è quella là? vai non prenderete la città ora ti faccio spartiamo gli eros vai occhio mamma mia è una figata occhio vai ecco che cosa succede quello che funziona? no no perfetto per raccogliere l'attrezzatura oh perfetto allora visualizziamo qui l'attrezzatura ok c'è qualcos'altro non penso proprio ok perché sei qui da sola la mia squadra è rimasta chiusa nella città bassa ieri notte quanti eravate? non abbastanza beh mina sitil resiste ancora stiamo per perdere la città di mezzo ramingo chiuderanno i cancelli se non l'han già fatto dobbiamo arrivare lì il prima possibile ti seguirò come il nome aspetta come ti chiami? idril talion non restare indietro talion abbiamo già perso troppi uomini nuovo obiettivo seguiamola allora facciamoci strada fin lì il sergente Tarandora avrà bisogno di noi andiamo cosa sta facendo? prenderò la tua testa adesso vanno di essere spacciati non so chi tu sia ah sgombra l'aria per salvare il sergente ok vai vai uuuh occhio ok mi siamo fatti in tempo a schicciare dobbiamo andare di là guardate che casino se le forze di Sauron dovessero trovare il Palantir tutta la terra di mezzo ne soffrirà vai 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 niente andiamo 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 non posso salvare tutti ho capito ok andiamo su ok ok pigliani uno a caso cosa meno ci ripigliamo anche la vita vai 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 perfetto andiamo Ma corre la piccola, eh Porco due Andiamo Dai, 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 dai Siamo dietro di te Uncidiamoli, uncidiamoli tu te Ma che casino E qui? No Oh, finalmente Porca miseria, ok Sono riuscito a parare il colpo Vai, maledetto, andiamo Ma sto salvando un botto di sergenti generali Casino, comunque il gameplay è una cosa È fantastico Andiamo, andiamo Dai, su Presto, sotto il cancello Muovetemi Che cosa stai facendo? Ci metterò poco Tu va Via gli arciari di coprirlo Attacco pesante Tieni per il moto quadrato Ma dai Uh Guardalo E cosa vuol fare? Occhio Non riesco a capire Per fare l'attacco pesante Cosa devo fare Ah, ok Niente Foto tutto l'oro La città di mezzo è persa Ci siamo battuti E hanno sudato ogni centimetro Ma ora è loro Allora qui si deciderà il nostro fatto Le mura interne sono forti E abbiamo il doppio dei loro arcieri Non ne guaglieremo mai Il numero degli orchi O la loro ferocia La nostra gente ha già respinto Le forze di Sauron in passato Ma alcune cose le ha perse per sempre Sì Questo è vero Vai alla grande sala Proteggi le reliquie Il mio posto è qui Assicurati che vengano portate Aen e Tannum E questo è un ordine? Cerca di capire Dobbiamo difendere Ciò che abbiamo di più prezioso A ogni costo Sì Questo è un ordine Allora sarà fatto Ma tornerò sulle mura Prima del prossimo attacco Un ramingo del cancello nero Credevo foste tutti morti Infatti è così Se vuoi combattere per Mina Seatil Ramingo Parla col capitano Baranord Non sono qui per unirmi al tuo esercito Ma per il Palantir E la sua sicurezza Proteggi la città E il Palantir sarà al sicuro Comunque I nostri incursori Stanno attaccando i capitani nemici Nella città bassa Vuoi seminare fra loro il terrore? Sì È ora che scoprano che cos'è la paura Gli uomini sono radunati Generale Bene, 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 bene Punti abilità ottenuti Ottimo Allora, è un po' Ah, mamma mia Che albero È davvero un botto di roba Ma posso acquisire solo quello? Eh sì E al momento Sia Dobbiamo mettere al sicuro il Palantir La città è debole E non resisterà a lungo Non possiamo abbandonare i gondoriani Al loro destino Castamir ha ragione Difendiamo la città E proteggeremo il Palantir Guarda Le torri hanno il suo marchio Quelle erano le mie torri Ora la corruzione di Sauron Va oltre i confini di Mordor Si fa bene Sono i suoi occhi Non senza il Palantir Allora Proteggi il Palantir Completa le missioni Per impedire che il Palantir Cada nelle mani di Sauron Ok Quindi Sono 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 Queste qua Ah no Viaggio rapido Questo cos'è che è? Marche al bersaglio Le missioni storie Sono evidenziate con Praticamente l'icona Con il punto esclamativo Ovviamente E le altre invece Sono con Il punto Non il punto esclamativo Ma Varie icone Allora Mordo inoltre Brulica di Capitane Che puoi cacciare Per ottenere punti esperienza Puoi trovare Capitane In un modo grazie Alla loro icona del teschio Ah quindi Ok Ok Va bene Va bene Ma è pieno però Qua non finisco più Comunque sarà davvero Una figata Bene gamers Direi di concludere qui Il nostro video Abbiamo concluso Il primo atto E Non vedo l'ora Di fare tutto il resto Deve essere onesto Voglio proprio divertirmi Come un matto In questo gioco qui Poi a me questi giochi Mi sono sempre piaciuti Quindi A voglia Bene Se il video vi è piaciuto Invito a lasciarmi un bel pollice Nell'insomma Mi raccomando Per poter supportare Il canale e la serie Se ne siete ancora iscritti Mi raccomando Iscrivetevi Come sempre vi ricordo Che se volete farmi Qualche domanda particolare L'hashtag Ask Ninox Gamer Molto bene Direi che possiamo Salutarci qui E ci vediamo al prossimo video Ciao gamers